Questa storia inizia il primo giorno di scuola di Alex, in un liceo severissimo. Per fortuna ci sono gli amici di sempre. Nicole. Alex è il mio migliore amico da un sacco di anni, però quest'estate mi sono accorta che per me non è più solo un amico. Christian. C'è proprio una bomba quel tipo, eh? I nuovi compagni, Em. Qualcosa di buono doveva pure esserci in questa scuola. E Sam. Già con il libro in mano, cacola nerd. Insieme dovranno fare i conti con la perfidia di Linda. Se cercate l'alla della prima A, infondo queste scale a destra. Ma quello che doveva essere un brutto scherzo, rivelerà ai ragazzi il passato della scuola. Questo posto è pazzesco. Sembra di essere in un sogno. Uno, due, tre, prova. Infrangendo le regole e con l'aiuto di un professore fuori dagli schemi. Le sto chiedendo aiuto per cambiare la mia vita. Scopriranno le loro vere passioni. Non penso di riuscirti a stare dietro. Sam, se non ci provi non lo saprei mai. Ma rimanere uniti non è sempre facile. Non capisco come fa Alex a non accorgersi. Di cose. Che sei perfetta. Non dire niente a nessuno. E soprattutto non dirlo ad Alex. Perché hai perdonato il meno, Nicola? Si ritroveranno grazie alla musica. Potremmo girare un video. Potremmo voce a tutti quelli che non possono farlo. E insieme vivranno un sogno. Noi siamo più di un gruppo musicale. Siamo amici. Io sono Alex. Questi sono i miei amici. E insieme stiamo per vivere l'avventura che cambierà le nostre vite per sempre. La nuova serie italiana Alex & Co vi aspetta a maggio solo a Disney Channel.